Ciao a tutti, oggi vediamo due forbici molto speciali, una leggermente curva mentre l'altra dritta e appuntita. Sono forbici in acciaio inox di alta qualità, lavorate a mano da esperti artigiani italiani. Queste in particolare sono forbici per unghie di mani e piedi, leggermente curve, proprio per seguire la forma delle dita. Queste invece sono forbici completamente dritte, molto a punta, che servono per tagliare capelli, barba, baffi, basette. La lama ha una lavorazione speciale micro dentata, proprio per evitare lo scivolamento del pelo nel momento del taglio. Questa particolare lavorazione permette di ottenere un taglio preciso, perfetto, molto netto. qui vediamo leggermente la micro dentatura, ma poi lo vedremo ancora meglio con il particolare visto al microscopio. qui vediamo la micro dentatura, vista al microscopio, si tratta proprio di una lama speciale per non far scivolare i fili e i peli, per un taglio proprio netto e perfetto. Se vi interessano le nostre forbici le troverete sul sito elettronicadidattica.com Continuate a seguirci iscrivendovi al nostro canale elettronica didattica. Ciao a tutti e grazie per l'attenzione.